A conclusione delle celebrazioni del giorno della memoria, il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale, Mauro Laus e Nino Boeti, hanno incontrato Charlene Guignard e Marco Fabri, coppia di patinatori azzurri di figura su ghiaccio, oro alle 27esime università di Invernale in Spagna. Per questa stagione, gli atleti hanno presentato un programma libero sulle noti della colonna sonora di John Williams, scritta per il film Scindellist di Steven Spielberg. Abbiamo scelto queste musiche perché questo film per rendere omaggio alle vittime, ma anche alla gente sopravvissuta e quindi dà anche un messaggio di speranza. Quest'anno abbiamo voluto dimostrare che con lo sport si possono anche trasmettere dei messaggi forti, delle emozioni forti. Ovviamente il nostro sport ce lo permette perché è anche uno sport con una importantissima componente artistica. E quest'anno, come ha già detto Charlene, abbiamo voluto rendere omaggio comunque sia alle vittime, ma anche ai sopravvissuti di questa tragedia umanitaria.